Scontro totale ieri sera tra l'amministrazione Caragliano e l'opposizione, che in consiglio ha riposto in maggioranza sulla modifica del regolamento sull'imposta unica comunale e in particolare della componente Tari, la tassa sui rifiuti. La modifica, come ha spiegato il consulente finanziario Alfredo Spinella, consisteva in agevolazioni per i BNB, per i proprietari di immobili residenti all'estero e una piccola riduzione per tutti i cittadini. Il tutto sarebbe stato finanziato attraverso gli introiti Tari che si prevedevano di incamerare dalle strutture commerciali con superficie superiore ai 10.000 m2, che sarebbero state tenute a siglare un'apposita convenzione con il Comune per disciplinare il pagamento della Tari. Una sola la struttura commerciale di queste dimensioni esistente nel territorio di riposto, dalla Tari che dovrebbe pagare a seguito della modifica del regolamento, il Comune incasserebbe somme in più che, nelle intenzioni dell'amministrazione, sarebbero state usate per diminuire la tassa a tutti i ripostesi. Un risultato possibile, sempre come ha spiegato Spinella, anche grazie alla scoperta di nuove evasori che nell'ultimo biennio hanno fatto aumentare la base imponibile. Si sarebbe trattato di un piccolo sconto, ma pur sempre di una riduzione attuata in un Comune in predissesto. La modifica doveva essere approvata entro ieri per entrare in vigore quest'anno, ma se anche fosse stata approvata in ritardo questa sera, non è escluso che ci sarebbero state delle proroghe di cui il Comune di riposto avrebbe potuto approfittare. Ma la maggioranza consigliare ha bocciato la proposta, decisione che secondo il Sindaco Enzo Caragliano è un danno per la collettività ripostese. In aula si era verificato un voto e risposta tra il Presidente della Commissione Consigliare Bilancio, Saro Caltabiano, che aveva iniziato a esporre i lavori della Commissione, e la Presidente del Consiglio, Marella Di Guardo, che sollecitava il voto senza ulteriori rinvii. A poco a poco i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l'aula facendo venire meno il numero legale. La seduta è stata rinviata di un'ora e se non si fossero ripresentati i consiglieri di opposizione, i loro colleghi che sostengono l'amministrazione, a distanza di 24 ore avrebbero potuto da soli approvare la modifica, visto che si sarebbe abbassato il numero legale per validare la seduta. Ma invece i consiglieri di opposizione si sono ripresentati e hanno bocciato l'atto. Il Sindaco Enzo Caragliano ha annunciato che lunedì comunicherà alla cittadinanza il danno che ha subito e di certo non mancheranno neanche le reazioni dei consiglieri. Dopo la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, il primo cittadino ripostese Enzo Caragliano invia una nota. Ieri sera è stato convocato il Consiglio Comunale, si legge nel testo, al fine di apportare delle modifiche al regolamento dell'imposta unica comunale, componente della tassa smaltimento rifiuti per approvare il piano finanziario e determinare le nuove tariffe per l'anno 2017. L'approvazione di tali modifiche, rimarca il primo cittadino ripostese, avrebbe consentito una riduzione di circa il 3% del tributo rispetto al 2016. L'opposizione all'amministrazione Caragliano, che in Consiglio Comunale, alla forza dei numeri, con il voto di astensione, ha determinato la bocciatura della modifica, impedendo così la diminuzione della pressione tributaria sui rifiuti solidi urbani. I cittadini devono saperlo, dice Caragliano, ed essere consapevoli dello strumentale colpo di mano che arreca solo un danno alla collettività ripostese.